Questa bici, ragazzi, è uno spoiler verso il futuro. Vediamo perché e di cosa si tratta. Davanti ai nostri occhi, ragazzi, abbiamo una bella LEV Devote Advanced 2 2024. Per chi non lo sapesse, il marchio LEV è il marchio Giant dedicato al pubblico femminile, però cari maschietti, che so che siete purtroppo la maggior parte di quelli che mi seguite, la quota femminile è veramente bassa, ma donne, iscrivetevi al canale. Per voi maschietti, ripeto, non smettete di guardare il video perché questa bici è un'antecipazione per il futuro di Giant, quindi aspettate un attimo e capirete cosa sto dicendo. Non sono impazzito. Intanto vi faccio vedere l'allestimento di questa DEVOT Advanced 2, ovvero un bel GRX, nuovo modello, quindi a 12 rapporti, scala pignoni 11-36, guarnitura FSA, deragliatore GRX e LEV, ovviamente, sempre GRX a 12, quindi LEV un pochino rinnovate rispetto alla serie 11. velocità, pinze ovviamente idrauliche che agiscono su rotori da 160 sia all'anteriore che al posteriore. Le ruote sono PX2, quindi ruote Giant, marchio Giant, specifiche per il gravel, ruote tubeless, canale bello largo, montate di serie con copertoni Maxxis Rambler 700x40, quindi copertoni abbastanza voluminosi, ma il telaio, così come la forcella, può ospitare copertoni anche molto più larghi, specialmente se usiamo qui la posizione più arretrata possibile. Adesso di serie è montata un pochino più avanti, ma girando questa boccola si può allontanare ulteriormente la ruota posteriore dal telaio, quindi dal carro, dai foderi, e questo ci permette sia di avere una bici più stabile alle alte andature, ma anche ci permette di poter montare un copertone ancora più largo, addirittura si parla di copertoni, oltre i 50 mm di larghezza. Per finire con i componenti troviamo tutti i componenti marchio Giant, quindi reggisella in carbonio, sella, marchio Liv, non Giant, ma stiamo lì ragazzi, marchio Liv perché è una approach studiata per il pubblico femminile, mentre manubrio e attacco sono Giant e qui possiamo vedere che appunto c'è questo nuovo manubrio, nuova serie sterzo, nuovo telaio, il tutto per ospitare i cavi che appunto passano all'interno dell'attacco manubrio, spessori serie sterzo, per poi raggiungere cambio del ragliatore e pinze freno. Quindi la nuova Devote rispetto al 2023 ha il plus di avere i cavi integrati, mantenendo comunque una certa facilità di manutenzione, perché appunto non passano proprio dentro all'attacco, ma c'è questo piccolo passaggio esterno che comunque dal punto di vista estetico è gradevole e non si va a perdere diciamo funzionalità dal punto di vista della manutenzione, perché comunque questa è una gravel e per le gravel è sempre meglio avere un po' più di funzionalità, senza per carità trascurare l'estetica, ma la funzionalità per bici, pensate anche per il viaggio, è importante, infatti qui troviamo oltre che vari fori per attaccare portapacchi, borse, portaborracci aggiuntivi, ce ne sono veramente tanti, troviamo anche questo nuovo scompartimento, è una prerogativa di questo nuovo modello 2024, che appunto permette di essere aperto, adesso con una mano sola non ci riesco, e poter alloggiare veramente tanta roba qui nel tubo obliquo. direi soluzione molto carina, molto originale, simpatica. Arriviamo al succo del discorso, questa ripeto è un nuovo telaio Devote, il che ci fa presagire che anche la Revote Advanced, che è il modello diciamo da uomo di casa Giant per quanto riguarda Bicicravel, il prossimo anno sarà aggiornato, quindi cambierà con la novità dei fili integrati nel telaio, magari anche il nuovo scompartimento, quindi questa Live Devote, ragazzi, è la sorella maggiore di quella che sarà la Giant Revote 2025. 20 ancora non c'è niente di scritto, non c'è niente di sicuro, ma generalmente se una novità si vede sul marchio Live l'anno prima, poi viene riportata sul marchio Giant e viceversa, quindi questa Live Devote sarà probabilmente l'anteprima della Revote 2025, 25 bici veramente di gran successo nell'ambito Gravel. Tornando a questa, quella che vedete è una taglia S, ha un peso di 9,5 kg, essendo una bici donna c'è anche in taglia XS, trovate qua sotto, link in descrizione, tutte le disponibilità e le offerte sul mio sito, quindi cliccate se siete interessati, 9,5 kg per un prezzo di listino di 3.100 euro, che visto il telaio garantito a vita e il gruppo GRX a 12 velocità, direi che è in linea con il mercato e non è affatto male. Vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao! Ciao!